Si comincia con la chiusura totale della corsia lato monte direzione cala per la demolizione dell'intonaco pericolante alla quale seguirà una chiusura parziale della carreggiata per il ripristino dell'intonaco. L'intervento durerà al massimo 30 giorni. Durante questa fase sarà istituito il divieto di sosta H24 nel tratto compreso tra via Onorato e via San Sebastiano. Analoga attività verrà svolta anche lungo l'altra carreggiata lato mare. In questa fase invece il divieto di sosta H24 sarà istituito in via Crispi carreggiata lato mare nel tratto compreso tra via Filippo Patti e via San Muzzo. Nelle due fasi sarà interdetta la sosta nelle corsie laterali delle carreggiate interessate dai lavori. Dopo una prima fase di chiusura totale mezza carreggiata verrà poi riaperta al transito veicolare anche durante i lavori. Per limitare il più possibile i disagi alla circolazione dei mezzi il servizio mobilità urbana e trasporto pubblico di massa di concerto con l'assessore alla mobilità Maurizio Carta e il sindaco Roberto Lagalla ha predisposto alcune azioni di mitigazione degli impiatti negativi per la circolazione per alleviare il disagio dei cittadini. In particolare verrà sospesa la ZTL limitatamente da alcune strade. La sospensione della ZTL centrale dalle 8 alle 20 riguarderà via Roma, via Squarcialupo e via Castello. Le limitazioni resteranno in vigore lungo le altre strade all'interno del perimetro così come resterà attiva la ZTL notturna durante tutto lo svolgimento dei lavori. L'ordinanza emanata nei giorni scorsi dall'ufficio mobilità del comune ha istituito inoltre il divieto di transito dei mezzi pesanti superiore a tre tonnellate e mezzo nell'area del cantiere con obbligo di svolta a destra in uscita dall'area portuale. Verrà istituito un percorso alternativo mediante il posizionamento di segnaletica lungo le vie Squarcialupo e Castello.